Il cuore oltre l'ostacolo. La Bunghera Venna lo ha gettato a Verona, espugnando d'imperio il Pala Olimpia e guadagnandosi così la qualificazione alla finale play-off di questa sera, sempre nella città di Romeo e Giulietta contro Piacenza. Giallorossi apparsi determinatissimi sin dalle prime battute di gioco. La squadra di coach Soli scappa via nel primo set, subisce il ritorno della Calzedonia, salvo trovare con la zampata di Ricci il punto del 25 a 22. Nel secondo set arriva la reazione scaligera, ma Ravenna non si scompone. Torres è una sicurezza e Linel è glaciale per trovare una breccia nel muro giallo-blu. 25 a 23. Un trend che la Bunghera cavalca anche nel terzo e decisivo set. Schivando l'ultimo sussulto di Verona e riprendendo in mano una partita condotta magistralmente. L'errore di Kovacevic vale il 25 a 21 per i giallorossi e adesso l'accesso alla Challenge Cup non è più un miraggio.